Era in lontano marzo del 2024 ed eravamo in questa zona prima del halving del 2024 in massimo storico per quanto riguarda Bitcoin e su questo tipo di massimo vi ho portato questo grafico che andremo a vedere oggi dove abbiamo parlato di un evento che era quello che potevamo aspettarci dopo l'halving di Bitcoin ed abbiamo costruito insieme vi ho mostrato anche questo grafico qui cioè il grafico della distanza della media mobile in pratica a 200 giorni più o meno è un po' di più adesso lo riprendiamo e ve lo rispiego rispetto ai prezzi che indicava che più in là di questa zona non potevamo andare in questa specifica fase almeno secondo quello che erano le serie storiche di Bitcoin e questo è quello che si è andato a verificare alla perfezione cioè una fase ribassista prima dell'halving di Bitcoin che ha continuato anche dopo l'halving per circa un mese e mezzo due i giorni alla mano le avevamo anche considerate abbiamo fatto anche l'ipotesi di quanto giorni Bitcoin sarebbe rimasto sotto i massimi e ci siamo siamo arrivati anche al numero dei giorni tutto quello che erano stati i video che le analisi che avevamo optato da marzo aprile in poi si sono rappresentate nel mercato alla perfezione questo anche in vista della tipologia di analisi che non erano analisi su previsione di prezzi aleatori ma bensì analisi su quello che effettivamente erano atteggiamenti di mercato più standard quindi serie storiche abbastanza chiare bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video di aggiornamento perché è cambiato una cosa su questo video e siamo cambiati anche in questa fase dopo una fase di ribasso laterale che ha sgonfiato quelli che erano gli indicatori di iper comprato tra virgolette che ovvio presentato e ha riportato il mercato e Bitcoin su un punto importante tralasciamo quindi analisi ciclica tralasciamo quelle che sono analisi tecnica basiamoci su analisi di dati di natura statistica un po' una forma di analisi quantitativa presa un po' a livello qualitativo chi ha adesso lo so tra virgolette però in realtà è proprio quello che voglio fare nel video di oggi per andare a capire dove siamo arrivati visto che tutto quello che abbiamo detto sui video dell'alving ha dato lì a rivedere sono tutti pubblicati si sono andati a verificare tutti quanti ma adesso c'è una novità e questa novità è molto interessante perché ci porta l'attenzione su una chiave di lettura diversa per i prossimi mesi prima di andare avanti ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto lasciatemi i pollicioni ragazzi per questo video voglio veramente arrivare a tanti mi piace quindi vi ribadisco questa richiesta siamo in periodo quasi estivo quindi un po' sonnicchiati ma questo è un video importante ragazzi è un video che riprenderemo nei prossimi mesi e che secondo me cambierà molto molto l'atteggiamento la propensione e la mentalità di molti di voi allora sui po pollici ragazzi lancio della moneta vediamo cosa dice dice che saliamo l'altro giorno non c'ha anche ethereum non ci ha capito nulla perché uno diceva uno un po' e non un altro infatti siamo rimasti alla fine va bene allora la moneta dice che si sale ragazzi allora il grafico in questione il grafico dell'alving che abbiamo ripreso per capire quello che poteva succedere sull'alving con questo indicatore che era quello che ho costruito io ragazzi è un indicatore che potete anche costruire voi su trading view si fa utilizzando una differenzazione tra il prezzo di mercato e la sua media mobile in questo caso io utilizzo una media mobile a 274 periodi che ho spiegato in mille video li trovate sul canale lo so è difficile andarli magari a reperire visto che sono tantissimi comunque mille video dove spiego che la media mobile a 200 periodi quelle che si usi nei mercati istituzionali classici negli old economy e su bitcoin rappresentabile a 274 per via del fatto che bitcoin spot resta aperto tutti i giorni compresi i venerdì i sabato e le domeniche allora questo è un indicatore che ci dà dei livelli di ipercomprato in effetti avevo inserito più volte vedete questa struttura di 100 come zona di ipercomprato e ne abbiamo parlato veramente tante volte è vero voi stai dicendo qui il mercato è salito sì ma abbiamo parlato anche di quello in quei video ragazzi andate lì a rivedere perché perché la fase al di sopra di questo livello di pricing arriva solo e unicamente nelle fasi di burran finale quindi dove il mercato e in pratica soprattutto bitcoin in questo contesto che stiamo guardando bitcoin fa l'ultimo app cioè la parte di boom 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 ma se deve ancora posticipare quella parte e doveva farlo nell'anno 2024 perché la parte di bull vera dovrebbe arrivare dopo nei mesi prossimi e così ancora una volta la fotografia e la storia di bitcoin sembra si stia rappresentando e adesso vi faccio vedere dove siamo arrivati in questo momento ed è incredibile dove siamo arrivati in questo momento si potrà diciamo avere questo spasamento questo vero ipercomprato solo solo nei prossimi mesi allora andiamo a riproducare tutto quello che ce l'avamo detti grafico storico di bitcoin qui era posizionato il giorno dell'having mi pare che è stato più o meno il 18 20 una cosa del genere perché poi è stato qualche giorno più lì ma non cambia niente perché tanto non cambia nulla eravamo strutturati in questo punto io in questo punto vi ho detto siamo troppo in là e da lì in poi possiamo andare ancora un po più su ma comunque siamo tirati prem prima dell'having faremo un massimo e poi dall'having in poi laterale ribassista perché lo avevamo già vista questa storicità su un altro ciclo dell'having e quello di cui vi avevo parlato in tutti quei video ed era il più importante di tutti cioè il fatto che fossimo molto più vicini al ciclo dell'having del 2016 ne ho parlato anche la blockchain week rom in live settimana scorsa dove ho detto questo ciclo è molto simile all'anno 2016 2017 per chi c'era come me se lo ricorda è meno simile all'anno 2020 2022 quindi non guardate quel ciclo lì guardate quello precedente lo so molti di voi non se lo ricordano perché non c'erano ma è molto più simile a quello ed eravamo nelle stesse condizioni con l'indicatore che segnava un apice in questa zona con una vicinanza alla sua zona di massimo e poi tentennamento con l'having al centro che dura più o meno dalla zona di massimo alla zona di minimo circa 45 giorni e ora vi faccio vedere dove siamo in questo contesto ragazzi ed è incredibile va bene dura 45 giorni in questa fase qui dalla zona di massimo alla zona di minimo ma poi dalla zona di massimo alla successiva rottura 180 giorni c'è voluto tanto tempo in questo contesto allora andiamo a vedere dove siamo prima di fare i confronti con il ciclo che a me piace di più di tutti che quello e facciamo una struttura andiamo facciamo andare avanti il mercato per vedere quello che è successo dopo questa fase intanto non guardate tanto i prezzi guardate l'indicatore di sotto qui che si va in pratica a livellare no scende guardate dalla zona di massimo e si livella prima in una fase di ancora no off limits perché noi dovevamo scendere al di sotto della linea rosa riprendete quei video ragazzi l'ho spiegato tutto in quei video di mesi e mesi fa dobbiamo scendere sotto questa linea rosa per poi avere in pratica la possibilità di poter ritornare a una fase rialzista da qui in poi eravamo in zona neutrale qui ancora un ipercoprato c'era è una fase insomma di estensione andiamo avanti e vediamo dove siamo arrivati guardate sempre l'indicatore di sotto ragazzi non tanti prezzi guardate l'indicatore di sotto perché i prezzi hanno cincischiato sotto il massimo ma l'indicatore si è sgonfiato guardatelo come sta rientrando come è normale che sia perché la media mobile quella blu che vedete qui si avvicina ai prezzi mentre i prezzi non salgono ed era proprio quello che dovevamo vedere andiamo avanti e guardate come scendiamo tra un po' al di sotto della zona neutrale eccolo qui siamo scesi al di sotto della zona neutrale andando a toccare questo minimo in aria 56 giorni che dal massimo segna una distanza di 48 giorni ragazzi 48 giorni ricordiamo quello che era la lato del ciclo che vi ho fatto vedere è tutto nei miei video di precedenti andate a trovare sul canale 45 giorni tra il massimo ed il minimo di questa fase ciclica poi ci incischia e fa un'altra fase al di là della pendenza che sappiamo questo ciclo attuale avere una pendenza meno esplosiva ma meno volatile quindi impiega meno giorni in pratica a scendere e meno giorni a salire perché in sostanza cioè sta più in barra di congestione fa meno estensioni perché meno volatile che normale che sia ragazzi identico al ciclo del 2016 tre giorni dopo il ciclo 2016 abbiamo fatto il minimo di questa fase siamo anche rientrati con l'ottica del nostro indicatore al di sotto dei 46 quindi zona neutrale da qui in poi bitcoin poteva ritornare a costruire una zona laterale e ritornare a provare l'aggressione ai nuovi massimi qui siamo dopo l'alving e soprattutto siamo a maggio andiamo a vedere cosa ha continuato a fare guardate sempre l'indicatore ragazzi guardate l'indicatore non i prezzi guardate come l'indicatore vedete si è standardizzato in pratica al intorno al livello della normalizzazione quindi della fase diciamo normale quindi non ipercoprato guardate un po come si è stabilizzato fino alla fine fino all'attuale momento cioè è rimasto intorno a questa linea rosa da questo punto in poi noi andiamo a calcolarci quelli che sono i giorni che sono passati per l'eventuale breakout dei massimi e teoricamente nel presente ciclo c'erano oltre 180 giorni qui siamo a 85 e sono un po pochini però c'è anche da dire che c'è una differenza enorme perché il ciclo precedente era un ciclo dove avevamo avuto un impulso rialzista molto pronunciato nei giorni prima in quanto eravamo a prezzi irrisori ragazzi da questa zona a questa zona piccola aveva fatto più 66 per cento giusto per farvi capire è dai massimi ai minimi era sceso del 40 per cento qui è tutto ridotto perché abbiamo avuto un impulso da questa zona questa zona del 45 per cento 50 e poi dal livello di struttura ribassista l'abbiamo avuto di meno 20 cioè volatilità ridotta in sostanza è possibile che a livello temporale impieghi meno tempo a raggiungere i nuovi massimi in quanto se a livello di estensione di volatilità si è ridotta la volatilità significa che i giorni successivi sono di meno servono meno giorni a raggiungere lo stesso livello vi faccio vedere quello che è il la struttura per esempio qui zoomata un po di più per guardarla insieme in pratica da questa zona circa è più o meno rappresenta il massimo in al touch del massimo noi non è che qui avevamo avuto un trend ribassista abbiamo avuto tutto il tempo un trend rialzo è solo che doveva recuperare un meno 40 per cento quindi un meno 40 per cento ci ha messo un po di tempo recuperarlo quindi in sostanza noi siamo andati poi a recuperare questa zona dobbiamo farlo dal contrario dobbiamo farlo da qui siamo andati a recuperare in pratica il 22 per cento in poco tempo 22 per cento più o meno in questa zona si era già recuperato quindi a livello di tempi dalla zona di massimo intorno ai 100 giorni abbiamo recuperato il 20 per cento e poi il restante 20 per cento nei giorni successivi quindi gli altri 80 giorni in pratica è una fotocopia di quel ciclo di fotocopia ragazzi fotocopia in quel ciclo lì perché siamo a 48 giorni tra il massimo ed il minimo incredibile e a 85 in questa zona ancora non abbiamo recuperato qui eh ragazzi ma più o meno in termini di estensioni di volatilità con una novantina di giorni 100 giorni noi recuperiamo la stessa volatilità che c'era stata nell'anno 2013 in termini ribassisti cioè la estensione ribassista consideriamo che ci sono gli etf consideriamo che l'anno scorso ne abbiamo fatto per la prima volta uno storico rialzo superiore a quello che era già avvenuto nei cicli precedenti perché abbiamo superato i massimi molto prima rispetto agli anni precedenti quindi non mi stupirebbe se bitcoin nei prossimi giorni tenterà di fare questo app anzi come vi dico anche nei video precedenti riguardanti la ciclica e quelli che ho pubblicato in settimana più tempo impiega a fare questa cosa meglio è quindi tutto sommato attendere questi altri 10 giorni 12 giorni se non lo fa la settimana prossima in pratica sarebbe bene sarebbe ottimo e ancora di più sarebbe l'ennesima indicazione che stiamo andando di pari passo con il ciclo del 2016 che ragazzi il 2017 fino a 2016 li eravamo poi 2017 è stata la burrana più bella di sempre per bitcoin perché non era un gioco per pochi era già bello attivo in molti lo conoscevano ed ha avuto dei rialzi esponenziali giganteschi e poi ha lanciato anche tutto quello che era il mercato delle cripto allora questo è quello che dovevamo vedere oggi ma dove siamo anche a livello dell'indicatore boh boh ragazzi siamo in questa zona facciamo una cosa andiamo nel ciclo del 2016 e vediamo dove era arrivato quell'indicatore già vi dico che sicuramente a livello di estensione si era mostro in maniera più volatile per ovvi motivi guardate la valutità come cambia e si vede anche dall'indicatore sotto guardate che differenza rispetto all'andamento attuale è molto più schiacciato rispetto a questo che era estremamente andava su e giù tutto 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 allora ragazzi vedete qui che cosa succede dal minimo che viene raggiunto l'indicatore poi rientra in questa zona ovviamente ragazzi è molto più volatile ma questo è normale che sia per poi continuare a fare questo trend quasi sempre rialzista fino a creare una serie di massimi anche qui c'è un'enorme volatilità poi di estensione che non credo che avverrà diciamo un ciclo del genere in questa fase ma in pratica da qui siamo scesi sotto il livello limite dopodiché ha cincischiato ha fatto un bel po' di giorni in barra per poi spingere a fare questo tipo di meccanismo che se volessimo ragionarlo come quello attuale magari potrebbe essere molto più schiacciato facendo una cosa di questo tipo e andando a delineare quelli che sono magari poi i livelli di massimo cioè in pratica noi seguendo questo indicatore potremmo seguire quello che magari è in fase di partenza attuale cioè una struttura che si crea in questo modo e che porta poi ai veri massimi storici di bitcoin di questa fase che dovrebbero avvenire entro il prossimo anno allora ragazzi quante informazioni e soprattutto fatemi sapere voi cosa ne pensate incredibile 45 giorni 48 giorni incredibile una fotocopia non ci credo neanche io ragazzi non ci ho creduto neanche io a dire la verità mi importava poco perché io sono un trend follower quindi a livello operativo quando vado a operare poi comunque seguo le mie macchine noi intorno ai 61 62 abbiamo preso posizione quindi era quello che serviva a fare ma sostanzialmente era quasi una scommessa da tentare no quasi al dire ma io quasi quasi ci provo perché è incredibile la ciclicità di bitcoin ragazzi ma questa è anche un'altra informazione che ci lascia tanto spazio e soprattutto tanto margine per essere tra virgolette felici magari nei prossimi mesi ancora di più se questi massimi di bitcoin non cadranno la prossima settimana ma ci metteranno qualche giorno in più e a quel punto ragazzi tutti i puntini saranno completamente uniti bene per oggi è tutto ragazzi buon weekend e noi ci vediamo nel prossimo video e nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questo effetto serie storica e ciclicità di bitcoin stellare ciao